Bella a tutti ragazzi, sono il Bocciocca per 05 e oggi siamo con FIFA 17 e il Braft Scegliamo il modulo, questo qui, 3, 4, 2, 1, ok, Ronaldo Toti E andiamo a compagnia di Manuelsson Bella a tutti ragazzi Non sappiamo chi scegliere, guarda Io direi... Neymar, ho scelto Neymar Su Alzi, perché ci fai indeso Ma ora Messi, guarda No Scegli... Uno spagnolo Sì Vabbè, però vabbè Dai, andiamo avanti Non lo so Scegli il secondo William Non ci fai indesa Non credo che andrà bene questo Oscar, che fai indesa con William Oscar Ah, l'innesto c'è Però per fare indesa Vabbè, dai, l'innesto perché... A me lo fa indesa con Neymar Messi Il potere C'è... 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 Coutinho C'è... 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 Bufani Come sempre siamo fuori Siamo sempre fuori Il mio paese è bellissimo In realtà fa persare Andiamo a infinite Scusate per la musica Andiamo in un ristorante Non sanno che ci stiamo connettendo questo con il loro wifi Comunque andiamo avanti E' Ну secondo me Piago Andiamo avanti Comunque ragazzi Vi informo che stasera Manuestro ne farà una live Sì, su Clash Royale Su Clash Royale Quello deve recuperare un po' di trofei Perché è imbascato Vabbè, sto risalendo Sono affreddato Devo recuperare entro 16 ore Perché tra 15-16 ore Finisce la stagione Quindi se arrivo a 4.030 Così non prendo 30 trofei leggendo Il problema è quasi bloccato Ragazzi Spero è sputato Allora Proviamo Podolski Che è uscito? Che è uscito? Messi, Asalto, Cavani, Guain e Muller E Guain Disputo Non lo so Messi Messi, almeno guardati Sì, però in panchina non ci sta BAM Guarda, la cupia Che è uscito? Anzic Già male Oblak Che spagnolo Eh, ma ci fanno dissi Andiamo avanti Non ci sono Lui Benfica Andiamo avanti Sergio Ramos Terry Sergio Ramos Sergio Dove è bello così Comunque ragazzi Dobbiamo salutare 90 di valutazioni Di valutazione E 90 di indesa Dobbiamo superare Comunque Prendiamo Andrea E per il prossimo episodio Quanti mi piace vuoi? Non so Mi piace Sono 90 di indesa 90 di cose Ah, per il prossimo episodio No, per questo episodio Voglio 5 mi piace Comunque Scegliamo Daniel L'ultimo Comunque 5 mi piace Per la sputazzata Pure Come faccio schifo E sorride Guarda E sorriso Di merda Comunque Qua fanno tutti Gagare Sì In una casa Aspettate un attimo E mettete il video Stop Perché così Facciamo Comunque Ragazzi È venuto 90 di indesa E comunque Ragazzi Non formare Che ora C'è pure Gabby 007 Ciao Fa cagare Ma tu volevi Che ti indavi una faccia? Sì Un po' ti vergognavi Vabbè Diciamolo questo Fa cagare Comunque ragazzi Questo video Finisce qui 88 88 Comunque Non ha il telefono Va bene? Non ha un canale Lo fa insieme È una coppia Insieme a Falco 03 Che oggi Non è qui Falco 03 Sono insieme Comunque ragazzi Questo video Termina qui E ci vediamo Al prossimo episodio Ciao